La scelta di Alitalia per trattare la privatizzazione, entro metà gennaio la decisione del governo. Dopo la finanziaria ok al Senato anche sul welfare, Berlusconi prodi cadrà a gennaio, dibattito sulle intercettazioni. Un'anziana donna trovata morta in casa vicino a Piombino, aveva mani e piedi legati con lacci e un bavaglio alla bocca. Champions, ottavi da brivido per le italiane, Liverpool-Inter, Arsenal-Milan e Roma-Real Madrid, l'andata a metà febbraio. Benvenuti al TG1 della notte. Grazie a tutti.